venditalia 2022 continua ci troviamo allo stand della nardi mobili in cartone e stiamo in compagnia di massimiliano nardi titolare e responsabile commerciale dell'azienda massimiliano benvenuto buongiorno buongiorno a tutti è il vostro primo venditalia e quindi non possiamo dire cosa è successo negli ultimi quattro anni dal precedente a oggi raccontiamo però che cosa fa nardi mobili in cartone e qual è l'offerta che realizzate per il vending sì noi siamo un'azienda che si occupa di allestimenti in cartone lavoriamo su diversi settori e ci siamo specializzati nell'arredamento diciamo dedicato alla distribuzione automatica creiamo soluzioni di vario genere dai moduli per la raccolta dei rifiuti a rivestimenti per i distributori automatici che hanno delle caratteristiche dedicate appunto a questo settore questo vuol dire delle superfici lavabili strutture sollevate da terra per appunto non comprometterne la stabilità in caso di perdita di liquidi da parte dei distributori sistemi appunto di apertura e diciamo di movimentazione diciamo dei macchinari semplificata e sono delle soluzioni che si distinguono per essere facilmente trasportabili perché l'installazione avviene senza l'utilizzo di strumenti particolari ma tutto comodamente ad incastro Massimiliano alle nostre spalle c'è una struttura che simula anche i distributori al suo interno anche se i distributori in questo caso sono sagome di cartone e io notavo la robustezza della vostra struttura Sì certo utilizziamo un materiale estremamente robusto sebbene in cartone è il top quality per quanto riguarda l'ondulato e oltre alla robustezza che è data dalla materia che utilizziamo è anche il sistema con il quale viene costruito che ne dà la solidità per cui il fatto di utilizzare delle pieghe e degli incastri solidi fa sì di avere un prodotto duraturo nel tempo Ecco io ve lo mostro in diretta è veramente duro, solido, strong potremmo dire proprio per dare un senso di maggior forza e allora per tutti coloro che sono dall'altra parte e sono certamente incuriositi perché magari non conoscono ancora le vostre strutture qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi e avere maggiori informazioni commerciali? Potete scrivere al nostro indirizzo mail info-mobili-incartone.it o visitare il nostro sito www.mobili-incartone.it dove potete trovare tutte le nostre soluzioni con le varie caratteristiche che hanno Molto bene, grazie per il contributo Amici, noi continuiamo nei corridoi di Venditalia 2022 per ricercare e presentarvi altri prodotti da poter presentare al popolo del vending